Ho deciso di trasformare questo salvadenaio in un salvadenaio che non serve rompere se è pieno, ok? Spiega Pietro. Faremo un buco e poi lo verniceremo con un spray. Se si riempie dobbiamo solo staccare qua un tappo che sarà qua sotto un tappo, tirare fuori i sodio senza romperla. Sì, tra quanti anni si riempirà? Ah, fra un po'. Io so rispamiare bene. Sicuro che non si rompe? Spray metalli preziosi, effetto brillante, eccellente adesione decorativo. Questo è oro specchiante. Questo non serve aggrappante perché è un materiale in terracotta ed è molto poroso. Speriamo che bello. Che bello. Guardate che spettacolo. Ma l'oro fa magia dappertutto. Questa è la lampada di Aladino, ragazzi. Quando è piena esaudiamo qualsiasi desiderio. Andiamo a viaggiare. Seconda mano. Guardate, seconda mano. Vi faccio vedere il risultato finale della mia salvadenaio, ok? Guardate. guardate che bellezza. Il problema sarà riempirlo. Ah, io mi fido di te, amore. Mi sa che secondo me sarà sempre vuoto. Secondo me l'unica speranza che avevi per far rimanere dentro le monete e i soldi era quello di non fare il buco. Sì. Adesso col buco i soldi escono. Ho sbagliato allora. Comunque è un bel soprammobile. Sì. Molto bello. Ciao, alla prossima. Arrivederci al riciclo. Ciao.